Giorgetti ha detto che non è d'accordo. Va bene, se ci sono domande serie rispondo, altrimenti vi ringrazio e vado a lavorare. Bene, abbiamo le idee chiare come Lega su cosa ottenere in questa manovra di bilancio per le famiglie e i cittadini. L'aumento delle pensioni di invalidità, andando a tagliare i furbetti del reddito di cittadinanza, e l'aumento della flat tax, della tassa ridotta per partite IVA, autonome e piccoli imprenditori, fino a 100.000 euro rifatturato. Giorgetti ha detto che non è d'accordo. Va bene, se ci sono domande serie rispondo, altrimenti vi ringrazio e vado a lavorare. Giorgetti ha detto che non è d'accordo. Va bene, se ci sono domande serie rispondo, altrimenti vi ringrazio e vado a lavorare. Oltre al taglio delle tassi, buon lavoro a tutti.